Musica Musica Benvenuti a una nuova puntata di viaggio in Molise, siamo a Montenero di Bisaccia. Due giorni dedicati alla promozione del territorio attraverso un percorso del gusto, della cultura, dell'ospitalità, questo è Montenero a tavola, una manifestazione che è stata organizzata in occasione anche dei festeggiamenti della Madonna di Bisaccia. Restate con noi. Musica Siamo in compagnia dell'assessore alla cultura e al turismo del comune di Montenero di Bisaccia, Massimo Di Stefano. Siamo nel cuore di questa manifestazione Montenero a tavola. Assessore, innanzitutto una manifestazione che mancava da qualche anno, avete voluto fortemente, ecco, due giorni con un percorso, l'insegna del gusto, dell'ospitalità, ecco, ce lo descrivamo un po'. Assolutamente sì, per noi è un grande ritorno e con grande entusiasmo vogliamo ripresentare a tutti i cittadini questo evento che dovrà essere appunto uno strumento di promozione turistica. È un evento che è assente nel nostro territorio dal 2006, storicamente parte con una denominazione diversa perché avevamo uno chef che assieme appunto dovevamo organizzarla, è venuto a mancare e quindi gli abbiamo dato il nome come ricordo e appunto si chiamava Montenero a tavola Memorial Severino d'Ascenso. In questa veste del 2019 cambia un po' tutto, diamo una denominazione più generica, Montenero a tavola, in più abbiamo aggiunto degli espositori in riferimento sempre della promozione turistica e assolutamente verso il mondo dell'enogastronomia che assolutamente crediamo che sia la nostra scommessa nei prossimi anni a venire. Ecco, che tipo di risposta avete avuto sia in termini di partecipazione della popolazione che sicuramente non è mancata perché i monteneresi fanno sempre sentire il loro calore ecco, anche a livello di ritorno turistico? Ritorno turistico è confermato perché in queste giornate c'è appunto un turismo di rientro dei nostri concittadini che tornano in occasione della festa della Madonna di Bisaccia perché Montenero a tavola è un contenuto del contenitore appunto dei festeggiamenti della Maria Santissima di Bisaccia. Personalmente da amministratore ho un grande entusiasmo e soddisfazione perché c'è un'ottima sinergia con il parroco Don Stefano Rossi, preziosa collaborazione della Prologo Frentana capeggiata dalla Presidente Cabiria Calgione, quindi per me assolutamente è un bilancio assolutamente positivo. Come si sono svolti questi due giorni? Abbiamo dato inizio alla manifestazione nella giornata di ieri con un convegno di apertura dal titolo Alimentazione e Territorio per poi andare all'apertura appunto degli espositori in Piazza della Libertà per poi arrivare a una manifestazione rivolta ai ragazzi dell'Istituto Omnicomprensivo della Scuola Media di Montenero e a tutti i cittadini con un pasta party in Piazza della Libertà a cura degli allievi della scuola alberghiera Federico Svevia di Termoli. Oggi invece come si svolge la giornata? La giornata di oggi parte con l'apertura alle ore 17 e gli espositori hanno appunto aperto i loro spazi offrendo le specialità regionali per poi arrivare alle ore 20 e 30 con una cena dal titolo Alimentazione e Territorio ma più che altro vogliamo rappresentare il piatto della tradizione alla ricetta della ricetta antica. È un progetto che appunto nel futuro scommetteremo molto. Siamo con Cabiria Calgione, presidente della Proloco Frentana che è un'associazione di Montenero di Bisaccio, possiamo dire l'anima di questa comunità, organizzate tanti eventi, in primis il presepe vivente di Montenero di Bisaccio che è una lunghissima tradizione e ora questa nuova manifestazione Montenero a tavola, non vi fermate mai? No, non ci fermiamo mai, diciamo che con questo evento apriamo poi gli eventi estivi dell'estate montenerese e in collaborazione con il Comune abbiamo deciso di riprendere questo che era un evento già forte diversi anni fa, naturalmente rivisitato con una nuova veste e riproporre quindi la tradizione, il gusto, le radici dell'enogastronomia molisana anche con qualche novità, abbiamo una cucina mobile con dei piatti rivisitati in chiave più moderna, speriamo che sia un evento che piaccia, che possa continuare poi negli anni successivi, ci piacerebbe riprendere questa tradizione, siamo sicuri che anche la cucina è storia, cioè legata al territorio parla di noi, parla delle nostre radici e quindi è giusto parlarne e conservarne il ricordo e la tradizione. Cosa ci riserva la Prologo Frentana per l'estate qui a Montenero? Ma sicuramente il Borgo, Notte nel Borgo Antico che ormai è alla quattordicesima edizione, il 6 e 7 agosto, un evento a cui noi teniamo tantissimo, si svolge nella parte storica del del paese, ogni anno introduciamo un tema che è un filo conduttore su cui poi si basa un progetto di ricerca sia storica, culturale, gastronomica, legata naturalmente comunque sempre a ciò che è la tradizione popolare del nostro paese, della nostra regione. Siete qui a questa manifestazione e ci avete creduto proprio in questo evento? Beh, noi ci hanno invitato, ci abbiamo creduto e sono da diversi anni che abbiamo questa attività, veramente parte da mio suocero che nel 67 e praticamente di famiglia siamo arrivati alla terza generazione, oggi ci sono anche i nostri figli e facciamo oltre all'olio extravergine di oliva tutti i prodotti legati all'olio, quindi tutti i sottoli e anche la linea al corpo sempre all'olio extravergine di oliva. Siamo con Maria Giannone, presidente dell'associazione La Mimosa di Montenero di Bisaccio, intanto di cosa si occupa l'associazione? Allora, l'associazione è l'associazione di donne della terza età, sono tutte persone anziane, però facciamo anche i corsi, ci sta anche persone giovane, siamo circa 160 tesserati, quindi noi lavoriamo bene, facciamo ogni occasione buona per fare le feste, per stare insieme e facciamo tante cose, facciamo corsi di ballo, noi dobbiamo fare il corso di ginnastica, facciamo i dolci, facciamo la pasta fatta in casa, cioè sempre partecipiamo a tutte le manifestazioni che si svolge durante tutto l'anno, il periodo estivo, le sagre, paesane. Questi sono tutti i dolcetti tipici di Montenero che facciamo. Che dolci ci sono qui, signora? Allora, c'è la ceci archiata, poi ci sono i celli, si chiamano, i celli con la marmellata d'uva dentro, poi ci sono i calgionetti, sono questi, calgionetti con i ceci, dentro c'è la pasta dei ceci, mandorle, mosto cotto. Poi c'è la pasta, facciamo la pasta fatta in casa, c'è la pasta, la chitarra, le orecchiette, poi c'è i fusilli, le tagliatelle, questo è minimo, se no ci sono tante qualità. Abbiamo fatto pure il panondo, si chiama, che prima quando si andava in campagna si faceva la pasta di pane, si taglia così a fette e ci si mettono la salsiccia, i peperoni e la frittata. E questo è... Tipo la famosa colazione del contadino. Sì, è la colazione del contadino che si faceva quando si cogliava l'oliva, la vendembe e tutto via dicendo. E sono due, sono dieci anni che, insomma, che stiamo facendo sta cosa, molto bene. Noi piace, stiamo tutti insieme, siamo sette persone che gestiamo l'associazione senza scopo di lucro e quindi andiamo avanti. Adesso stiamo facendo il terzo mandato.